Devo venire qua perché penso che sia una grande piazza, che sia una buonissima scuola dove posso migliorarmi e dove cercherò di dare un contributo, spero importante, alla scuola per raggiungere le progettive. Ad oggi io devo pensare solo a giocare e a far bene, poi quello che succede anche il giorno vedremo. Io sono attaccante esterno, ma hai giocato come trequartista, come pensi di inserire il vostro modo di gaspedire? E non hai la venerata. Questo, diciamo io, mi adeguo a nessun tipo di problema, dove il mister riterrà opportuno farmi giocare, io giocherò. E poi un'altra, non conosciamo il suo amore, però pare che anche Murigno li abbia cercato. No, un'altra... No, un'altra... Un'altra, un'altra. Sì, sì. Un'altra. 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 Sì, sì. solo a darlo meglio per la camiseta che sta, la quale sta dipendendo. Ho detto sempre che c'è stata questa mezza chiacchiera che sia prima che andasse a Queen's Park Ranger che quando giocava il Mourinho gradiva, aveva mostrato interesse per lui, cioè al di là di queste chiacchiere. L'unica cosa che interessa è il rendimento che lui può dare per la maglietta che indossa in questo momento.